In genere siamo abituati a considerare il fondo che troviamo poi in tazza alla fine del nostro espresso come polveri di caffè. Non è sempre così, in quanto quel fondo è nient'altro che dei pezzetti carboniosi che si staccano dal portafiltro, che ha ricevuto una pessima manutenzione, un pessimo lavaggio e poi vanno a finire nella tazza del vostro datore di lavoro che io considero il vostro signor cliente. A questo punto il vostro cliente troverà il vostro espresso molto amaro e di pessimo gusto.